ben trovati amici come va qui oggi c'è un bellissimo sole un bel pomeriggio e siamo in un campo di fieno meraviglioso è uno spettacolo vedere del fieno così bello guardate guardate che meraviglia ormai è già secco il fieno qua vedete il fieno ormai è secco è pronto da imballare quindi presto lo imballiamo prima di sera lo imballiamo grazie a tutti 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 amici grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti